Paola Zelanda, presidente della sezione di Pordenone dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, illustra lo scopo del convegno in programma per domenica 29 maggio a Palazzo Monteriale Mantica a Pordenone. In genere viene inteso lo sport solo a livello agonistico, mentre invece quello che noi vogliamo mettere in rilievo con questo convegno, le potenzialità che ha lo sport nel riabilitazione e anche persone che hanno delle patologie, che si richiudono in casa e non capiscono che invece fare una sana attività sportiva o attività fisica possa far bene. E quindi le società sportive e anche quelle delle politiche sociali che fanno volontariato, sociosanitarie, indirizzare i propri utenti, i propri soci a fare una qualche attività mettendo in rilievo non solo i valori dello sport, ma quante potenzialità psicofisiche contengono. L'assessore alle politiche sociali, Guilmina Cucci, ribadisce l'impegno dell'amministrazione comunale nel sostenere le fasce deboli. Uno degli argomenti che verrà trattato nel contesto del convegno sarà anche quello rivolto alle nuove emergenze, alle nuove fragilità che contemplano tra l'altro anche la salvaguardia del diritto di queste persone a praticare attività sportive. E questo è un importante tassello nel lungo percorso che ha come obiettivo la piena inclusione e l'integrazione dei disabili nel tessuto sociale. Un impegno che l'amministrazione comunale ha nei confronti di questa fascia di popolazione affinché nessuno resti indietro, ma possa condividere con altri esperienze, relazioni, elaborando il proprio vissuto ed elevando la qualità di vita. L'assessore allo sport Walter De Bortoli plaude la sensibilità sportiva e sociale dell'associazione che promuove il convegno. Queste persone che per tutta la vita hanno fatto gli sportivi, o i dirigenti, o gli allenatori, o gli educatori dei nostri ragazzi, oggi in età non più giovanile, si prestano ancora a promuovere lo sport anche presso le persone adulte, ma a essere utili per lo sviluppo sportivo della nostra società. Un dato fondamentale, soprattutto rivolto anche alle persone non più giovani, perché lo sport riesce ancora a recuperare, a motivare una vita sociale e d'orgoglio anche per le persone che non sono più giovani. Dunque grazie a Paola Zelanda che promuove questo convegno, perché lo sport può sviluppare aggregazioni importanti per rendere la vita meno dolorosa o comunque più felice. Dalle 9 alle 12 a Palazzo Montereale Manti Capordenone, se i relatori affronteranno argomenti inerenti alle emergenze sociali, l'attività fisica, la salute, le terapie e le motivazioni che hanno per scopo la promozione dell'attività fisica dei non atleti.